Ciao a tutti, riprendiamo qui dal giardino della Casa Canonica, della Casa Abaziale, i nostri appuntamenti per ricordarvi alcuni aspetti importanti della vita comunitaria dopo l'esperienza dell'epidemia che ci ha un po' colpito quest'anno e ci ha tenuto sicuramente impegnati su tanti fronti. Settimana scorsa Don Gaetano Fontana, il nostro Vicario Generale, ci ha mandato una lettera nella quale lui precisa alcuni aspetti della vita comunitaria, ad esempio in riferimento al battesimo dei nostri piccoli e dei bambini. Sarà possibile infatti riprendere la celebrazione dei battesimi anche se non potremo farli durante la messa e non potremo farli in modo comunitario. Per questo motivo invito voi genitori che mi state ascoltando a contattare l'ufficio parrocchiale o me direttamente per fissare la domenica o il sabato pomeriggio nel quale intendete battezzare i vostri bambini. Il battesimo di un bambino è sempre un momento importante per una famiglia ma dovremo avere alcune attenzioni che sono sottolineate dalla lettera del Vicario Generale e anche dai protocolli governativi. Quindi vi aspetto per fissare questo appuntamento. Evidentemente cade la restrizione di avere una domenica sola per i battesimi ma cercheremo di venirci incontro dandovi più possibilità. Domenica la Chiesa celebra la festa del Corpus Domini ma non sarà possibile quest'anno vivere un'esperienza esterna di processione, di testimonianza della fede e quindi l'idea è un po' questa per tutte e tre le nostre parrocchie. Celebriamo giovedì sera che è il giorno tradizionale del Corpus Domini, una celebrazione eucaristica con l'adorazione alla fine e la benedizione per tutte e tre le comunità in Duomo naturalmente alle 20 e 30. Per questo motivo sia a Novagli come in Duomo è sospesa la messa delle 18 e 30 ma vi aspetto numerosi. Appliceremo il protocollo della domenica, dei giorni festivi, quindi sapete che in Duomo ci sono 196 posti a sedere. Un'altra cosa a cui tengo molto è che non si perda la memoria dei nostri defunti, soprattutto di quanti sono morti nel tempo di emergenza che hanno avuto il funerale ma non hanno avuto la celebrazione eucaristica e quindi dal 15 al 26 giugno, cioè dal lunedì al venerdì alle 18 e 30, noi celebraremo presso il cimitero, nel portico che abbiamo attrezzato quasi fosse una basilica all'aperto, la celebrazione per i nostri defunti. Sul sito parrocchiale abbaziemontichiari.it e anche sulle chiese, sulle porte delle chiese evidentemente, troverete il manifesto dove è specificato che ogni giorno faremo memoria di sette defunti, quindi le famiglie di questi defunti sono invitati a partecipare, certamente non in numero grandissimo, ma il cimitero dà la possibilità di essere anche distanziati e quindi anche possibilmente numerosi, naturalmente perché non si perda la memoria dei nostri defunti. Questo credo sia davvero un appuntamento molto importante. Sul sito, ripeto, trovate tutte le indicazioni. A Vighizzolo invece celebreremo nella memoria della nascita di San Giovanni Battista, una santa messa per tutti i defunti e a Novagli nella sera di San Pietro, 29 giugno alle ore 20, naturalmente, 20 e 30, scusate, naturalmente queste celebrazioni saranno all'aperto per dare la possibilità a più di partecipare. Naturalmente il centro estivo ci sarà, nonostante tutte le restrizioni che abbiamo con il Comune, abbiamo trovato un modo per intervenire, per dare un segno di attenzione alle famiglie, soprattutto a quelle dove i genitori lavorano entrambi e non sarà naturalmente il GREST a cui siamo abituati, presumo che questo sarà da dimenticare per un po' di tempo, ma sicuramente un'attenzione proprio perché almeno alcuni dei nostri bambini e ragazzi possano trovarsi a vivere un'esperienza così di fraternità, di solidarietà, di amicizia, di gioco, anche se tutto è regolato dalle nuove norme. Inoltre, sapete che possiamo riprendere ad ascoltare le confessioni sacramentali, naturalmente non nei confessionali tradizionali in Duomo, ma per quanto mi riguarda qui in Casa Canonica, martedì pomeriggio e sabato pomeriggio, vi do la disponibilità, mi raggiungete qui in casa nel mio studio che è molto grande, quindi lì possiamo ascoltare Don Alessandro presso il centro giovanile il venerdì e il sabato pomeriggio dalle 16 alle 18 e Don Nicola ha iniziato questa esperienza che mi sembra molto interessante di essere disponibile nelle frazioni come punto di riferimento il martedì e il mercoledì presso la chiesa di Santa Giustina dalle 9.30 alle 12 e dalle 15.30 alle 18 e il giovedì e il venerdì con lo stesso orario presso la chiesa di San Giovanni Battista a Viglizzolo. C'è anche un'altra piccola cosa che è il pensiero agli anziani, agli ammalati, alle persone sole, è vero che abbiamo sempre fatto un po' fatica a raggiungerli tutti anche perché sapete la dimensione enorme della nostra città, del nostro territorio, ma siamo ancora nell'impossibilità perché il vicario generale ci chiede in questa lettera che vi ricordavo di non entrare nelle case perché noi possiamo essere veicolo del contagio. Sapete che noi preti saremo sottoposti all'esame sierologico e probabilmente anche al tampone se ce n'è una necessità dalla settimana prossima, ma non possiamo ancora venire nelle case e quindi chiediamo davvero agli anziani e malati che abbiano ancora molta pazienza, ma si possono unire attraverso la radio parrocchiale, attraverso streaming, alle celebrazioni che facciamo in Duomo, cerchiamo sempre di avere un ricordo, una memoria per loro e quindi per questo tempo c'è ancora da avere un poco di pazienza. Per ora grazie, buona giornata a tutti, grazie per chi mi avete ascoltato.